23.16 invito ritiro parere contrario, 23.201 favorevole, 23.17 invito ritiro parere contrario, 23.18 invito ritiro parere contrario, 0.23.19.1 invito ritiro parere contrario, 23.19 favorevole, 23.22 favorevole, 23.202 favorevole, 23.20 invito ritiro parere contrario. Abbiamo anche il 23.101 sempre della Commissione e il 23.103 della Commissione. Favorevoli, grazie Presidente. La ringrazio, il Governo. Grazie Presidente, i pareri sono conformi a quelli del relatore. La ringrazio. Allora, iniziamo dal 23.2, pagina 30 del fascicolo. Cozzolino chiede di intervenire, prego. Dichiaro voto favorevole. Grazie, Nuti. Grazie Presidente. L'Agenzia dei beni confiscati dalla mafia è stata piazzata anni fa a Reggio Calabria. La motivazione non è molto logica. Perché? Perché intanto Reggio Calabria non è una città con più beni confiscati dalla mafia, quindi questa motivazione ovviamente non regge, ed è lontana dai ministeri. Allora si sposta la sede principale a Roma, e siamo d'accordo, anche perché per un maggiore coordinamento con gli altri ministeri, visto che sta sotto la presidenza del Consiglio. Ma perché mantenere quella sede a Reggio Calabria? Non ne vediamo il motivo, e soprattutto smentisce quanto aveva detto il relatore in Commissione, dicendo che la sede sarebbe stata solo a Roma. Invece, controllando il testo, è rimasta questa parte. Grazie. La ringrazio. Ci sono altri interventi? No.